Benissimo, quindi partiamo. Buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo, buonasera anche a quelli che ci vedranno domani mattina o domani pomeriggio. Sono qui con Alberto Baruffaldi e Fabrizio Di Luca che adesso vado a presentarvi per la quarta ormai puntata del primo e unico blog italiano su LinkedIn, che è LinkedIn Pros. Il tema della serata è darsi degli obiettivi, trovare dei clienti e vendere su LinkedIn, abbastanza diretto. Quindi molti mi chiedono come si fa ad assiedere gli obiettivi, come si fa a approcciare dei clienti su questa piattaforma, come si fa a vendere fondamentalmente. In Italia cominciamo a maturare un po' l'idea che è una piattaforma che non serve solo a mettere il proprio curriculum e restarci e quindi ho chiesto a due esperti di pianificazione e di vendita di darci una mano a capire come si utilizza questa piattaforma. Vi presento brevemente Alberto. Alberto è un consulente formatore per FD Research e quello che fa è aiutare i neoimprenditori e startup a impostare con successo il loro nuovo business. In questo modo riduce i rischi tipici della fase di avvio, con cui spesso devono fare i conti nei professionisti, nei imprenditori e da startup. Su questo argomento ho scritto anche un bel ebook, che adesso vado a incollarvi in chat, che si chiama Dall'idea di impresa al business plan. Alberto, se vuoi presentarti in 90 secondi e aggiungere qualcosa a quello che ho detto per i nostri ascoltatori. Beh, la presentazione mi sembra perfetta, il target anche, quindi tendenzialmente l'aiuto è quello dei professionisti e startup. Non solo startup per digitale, ecco questo posso aggiungere. Ok, se volete collegarvi con Alberto e capire meglio che cosa fa e scaricare anche il suo ebook, vi lascio nella chat il link al suo profilo LinkedIn, oppure dovrei lasciarvi in chat il link al suo profilo LinkedIn, ma con HTTPS non funziona, quindi facciamo così, si scopre una cosa nuova su questa piattaforma giovanissima. Perfetto, idlinkedin.com slash in slash Baruffaldi. Grazie Alberto. Fabrizio lavora sempre in FD Research, è consulente, business coach e investitore, e quello che fa è aiutare startup, professionisti, piccole e medie imprese a incrementare i propri risultati commerciali attraverso una consulenza, una formazione mirata nell'area sales marketing e management. Fabrizio ha un blog verticale che si chiama www.leaderdellavendita.com, anche qua cerchiamo di copiare il link e metterlo in chat, così siamo tranquilli, perfetto. Nel frattempo Giulia Bezzi che dice non mi fregare il mestiere, quindi smetterò di fregarlo il mestiere, ci copia anche l'ebook che ha scritto Fabrizio, è come diventare un leader della vendita. Fabrizio, anche tu se vuoi completare la presentazione. Direi che hai fatto il pitch di presentazione esattamente come se lo avessi fatto io, quindi perfetto così direi. Ottimo, vi ringrazio. Ti hai preparato evidentemente. No, facciamo tutto abbraccio perché a noi prepararci non piace assolutamente, vogliamo dare le cose molto spontanee, molto live in diretta. Per chi si fosse collegato in questo momento, per chi non sapesse come funziona questo blog, il format della serata è questo, abbiamo 15-20 minuti in cui faremo delle domande che abbiamo già accordato con i nostri relatori in merito al tema specifico, dopodiché raccogliamo, Giulia raccoglierà le domande che potete fare direttamente dal pubblico. Negli altri 20 minuti, chi vuole, scrive in chat fisicamente in maiuscolo alzo la mano, quindi provate alzo la mano, così, e vi chiederò se volete intervenire in video, quindi come vedete c'è una slot libera e c'è la possibilità di fare delle domande direttamente live a Fabrizio e Alberto. Ok, comincerei subito a fare una domanda ad Alberto sul primo tema della serata, che è quindi darsi un obiettivo. Come Alberto insegna, io ho avuto la fortuna di fare un corso sia con Alberto sia con Fabrizio, quindi li ho chiamati perché so in prima mano come lavorano. Un business plan fatto bene, quindi non fatto male, è un mix di ingredienti un pochettino diverso, quindi la tua vision, chi è il tuo cliente, chi sono i tuoi competitor, qual è l'offerta dei prodotti e servizi, quali sono le strategie commerciali, eccetera, eccetera. Che cosa c'entra tutto questo con LinkedIn? Quali sono le affinità di un business planning con l'azione commerciale su LinkedIn? Sì, è un tema che devo dire la verità, la prima volta che l'hai proposto stavo così, sono rimasto colpito, poi in realtà ho detto, caspita, in effetti esistono moltissimi punti di contatto tra il business plan e l'utilizzo di LinkedIn. Prima di tutto vediamo, secondo me, il primo punto di contatto è l'approccio. Il business plan, prima di tutto, per come lo vedo io e per come lo vediamo noi in FD e durante i nostri corsi, è un percorso. È un percorso che parte dalla vision, che un imprenditore dovrebbe avere, dovrebbe avere chiaro e soprattutto dovrebbe condividere con il proprio team e i propri collaboratori. Poi il percorso prosegue con definire strategie ed obiettivi e solo in quel momento arrivare a definire i numeri e poi il piano operativo. Questo per me è business plan, quindi non è solo quel file Excel con quattro numeri che si vede spesso girare, diciamo, su internet. Se questo è vero, quindi se questa è la definizione di business plan, trovo che questo sia molto in linea con quello che serve per avvicinarsi, diciamo così, a LinkedIn, ma in realtà a tutti quelli che sono gli strumenti così potenti come LinkedIn. In particolare, secondo me, per avvicinarsi a LinkedIn, prima appunto di mettersi a creare il proprio profilo e tutte le cose che LinkedIn permette di fare, quindi prima di comunicare, forse vale la pena farsi delle domande. In particolare domande che sono anche tipiche del business plan, quindi ad esempio il dove voglio andare come imprenditore o professionista, quindi qual è la mia vision e soprattutto qual è il mio target, a chi mi rivolgo? Mi rivolgo a professionisti, mi rivolgo a piccole imprese, mi rivolgo a grandi imprese, eccetera. Quindi chiarire bene chi è il target, perché questo poi ha delle conseguenze. In particolare poi chiedersi quali sono, ad esempio, i problemi o le esigenze che i miei prodotti o servizi vogliono risolvere, soddisfare e anche delle riflessioni, ad esempio, su perché io, quindi perché una persona dovrebbe contattarmi, dovrebbe chiedere proprio a me, ad esempio. Fatto questo, quindi capiti questi, diciamo, elementi più di strategia, passare agli obiettivi, quindi cosa mi aspetto e a quel punto farsi anche domande più specifiche, del tipo quanti e quali contatti ho bisogno e così via. A questo punto viene un'altra domanda, perché come ogni strumento devo chiedermi, ma LinkedIn in che modo si integra con la strategia più complessiva aziendale e di marketing, se vogliamo? Io penso che in questa fase qua dobbiamo evitare sostanzialmente due errori, cioè tutto questo lavoro serve a evitare due errori. Il primo è quello di confondere strumenti e strategia. Mi spiego meglio. Io vedo LinkedIn come uno strumento potentissimo, spessissimo anche sottutilizzato per le potenzialità che ha. Però non dobbiamo dimenticare che LinkedIn va inserito all'interno di una strategia. Quindi se io utilizzo LinkedIn come puro strumento, rischio poi di sparare un po' nel mucchio. Quindi potrebbe andare bene, magari ho il colpo di fortuna e va bene, oppure potrebbe anche essere, diciamo, non in linea con tutto quello che abbiamo detto finora e quindi non essere poi efficace. Avete mai sentito imprenditori professionisti che dicono LinkedIn non funziona, Facebook non funziona, eccetera? Mai. In realtà, se approfondiamo, poi scopriamo che queste persone hanno utilizzato uno strumento ma non avevano una strategia. E quindi di conseguenza che cosa succede? Che non è efficace oppure ottengono contatti che non sono in linea, non sono profilati, insomma, sostanzialmente. Ecco, su questa... Scusa, vai, inizi. Vedo anche velocemente due altri punti di, diciamo, di vicinanza. Il business plan tipicamente è uno strumento che permette, ad esempio, di capire bene come gestire le risorse in una fase molto delicata che è quella dell'avvio di un'azienda, ma non solo anche di un progetto. Ecco, penso che una cosa su cui bisogna riflettere bene quando si usa LinkedIn è anche l'utilizzo delle risorse. Mi spiego. Probabilmente non ci servono risorse economiche, magari, per utilizzare LinkedIn, ma sicuramente utilizziamo una risorsa che è molto più importante, che è quella del tempo. Ecco che quindi forse farsi la domanda, ad esempio, su qual è il rapporto tra il tempo che impiego nell'utilizzo di LinkedIn e i risultati che ottengo è un buon indicatore, un buon indicatore per capire se lo sto usando in maniera, diciamo, efficiente ed efficace. Questo è, diciamo, secondo me, i punti di contatto. Chiudo velocissimamente con gli ultimi due, che sono, secondo me, due possibilità di utilizzo di LinkedIn, ad esempio, se io faccio un business plan, che è quello del studiare il cliente e studiare il competitor. Secondo me è potentissimo LinkedIn per studiare qual è il mio cliente, ad esempio, se il mio target sono gli CFO, posso studiare quello che, come hanno fatto il profilo, cosa dicono, su cosa si concentrano, e magari studiando i gruppi, perché nei gruppi esistono gruppi di ogni tipo. Se io studio quello che viene detto in un gruppo, in realtà è come fare una ricerca di marketing potentissima. E perché no, infine, lo studio dei competitors, perché posso vedere come hanno creato il profilo, cosa mettono in evidenza, cosa pubblicano tutti i giorni, eccetera, eccetera, eccetera. Chi fa like su chi? Chi fa like su chi? Risalire alle catene di rapporti, chi si frequenta più spesso con chi, se i clienti hanno rapporti con i competitor, eccetera, eccetera. Grazie, grazie Alberto, per questa prima risposta. Facciamo un saltello. Fabrizio, come si traduce tutto questo, quindi la strategia globale di business, in realtà nella vendita su LinkedIn. Beh, diciamo che una volta che abbiamo definito l'obiettivo, come diceva giustamente Alberto, anche in termini di budget, che vuol dire non solo, ad esempio, denaro, ma anche il tempo che decido a dedicare a questa attività, oltre ovviamente all'elemento principale, cioè aver chiaro qual è il target di riferimento, cioè sapere esattamente chi vogliamo raggiungere. Questo è fondamentale banalmente per definire non solo un piano di azione commerciale su LinkedIn, ma in generale qualsiasi piano di azione commerciale. Questo in realtà quindi non è poi diverso da quello che bisognerebbe in realtà fare per qualsiasi piano, diciamo, di azione commerciale, quindi non solo su LinkedIn, ma anche su qualsiasi altro social e anche offline. Questo vuol dire, ad esempio, aver chiaro quanto tempo e risorse dedicherò a LinkedIn, quanto tempo e risorse dedicherò ad altri social, quanto tempo e risorse dedicherò all'offline, quindi che so io, a chiamate telefoniche, piuttosto che all'invio di stagelette. Se restiamo su LinkedIn, questo vuol dire aver chiaro, ad esempio, quanti contatti per arrivare a quanti appuntamenti, che porteranno a quante proposte commerciali, che porteranno a quanti clienti. Chiaramente questo, diciamo così, all'inizio corrisponderà a una serie di ipotesi, ma quando inizieremo veramente a fare l'attività, questo ci porterà, ad esempio, a poter misurare i veri tassi di conversione di ogni singolo passaggio della nostra strategia. E questo è molto importante perché dopo poco tempo, quindi non serve andare avanti per anni, ma già dopo poco tempo che facciamo un'attività minimamente strutturata, saremo in grado, ad esempio, di dire che per arrivare ad effettuare una vendita è stato necessario, ad esempio, fare dieci proposte commerciali e che per fare quelle dieci proposte commerciali è necessario magari fare venti appuntamenti che derivano da 40 contatti e che per ottenere quei 40 contatti è magari necessario investire quattro ore del nostro tempo al giorno, a settimana, a 15 giorni, su LinkedIn. I tassi di conversione ci diranno anche, e questo è l'altro elemento importante, soprattutto in assenza di risultati, dove dobbiamo agire. Se, ad esempio, siamo molto bravi online, quindi sino ad arrivare ad ottenere un appuntamento con il potenziale cliente, ma poi magari dopo la proposta commerciale abbiamo una percentuale di chiusura, che so io, del 20%, su tutte le proposte, offerte, trattative che apriamo e facciamo, è evidente che prima di continuare questa attività in maniera massiccia, investire molto tempo, magari dovremmo pensare prima di formarci un pochettino per aumentare la nostra percentuale di chiusura, portarla al 50-70%. Questo perché? Perché dobbiamo aver chiaro che tutto quello che facciamo non è propedeutico a farci conoscere, che per carità è una componente essenziale, ma è propedeutico a farci vendere i nostri prodotti, servizi o soluzioni. Questo per me è avere un approccio professionale, se vuoi anche scientifico, strutturato all'attività che possiamo fare su LinkedIn. Alcuni colleghi mi rimproverano di guardare, e forse è anche colpa tua, da un certo punto di vista, un merito tuo da un certo punto di vista, di guardare come vantaggio del cliente la fattura che stacca, non dico a fine mese, ma insomma dopo il periodo di training su LinkedIn fondamentalmente. Dicendomi fondamentalmente questo, LinkedIn è un'attività di marketing, e come tale la visibilità, e il suo, ciao Alberto, sei tornato, e come tale la visibilità è il vero metro di giudizio, quindi i like, quindi le condivisioni, quindi le visite profilo. Come invece, come invece, dimmi se interpreto correttamente quello che hai detto, pare da questa chiacchierata, è che in realtà LinkedIn può servire a tre step diversi. Uno è il marketing, propriamente detto, quindi far entrare, far arrivare i clienti alla porta, fondamentalmente, che tu sia un professionista, un'azienda. Poi però c'è anche una parte commerciale, che è quella di relazione, che sta nel chiudere una vendita, che può avvenire all'interno di LinkedIn, oppure può avvenire per altri versi, la sales letter, il telefono, eccetera, eccetera. Ed è importante, e qui colgo il tuo suggerimento, e lo rimbalzo, ripeto, capire perfettamente, darsi anche dei numerini, un piano, per capire qual è il problema. Sto portando abbastanza clienti, e quindi è un problema di commerciale, oppure non ne sto portando abbastanza, ed è un problema di marketing, oppure non ne sto portando abbastanza, e non sono bravo a chiudere, quindi è un problema, sia nel commerciale, sia nel marketing. Una pianificazione di questo tipo di me? Possiamo anche sintetizzare, no? Molto brutalmente, però, tu mi conosci, sai che sono così. Diamo brutalmente. Il marketing, essenzialmente, è generare contatti. La parte commerciale, è vendere. Tutte le attività, che sviluppo in termini di marketing, se non vogliamo parlare di aria fritta, devono essere finalizzate, alla generazione di contatti. Nel momento in cui questo accade, e nel momento in cui i contatti sono profilati, il marketing, anche se sono sempre io a fare l'attività, il marketing ha oggettivamente terminato la sua funzione. Da quel momento inizia l'azione commerciale. Alberto, secondo te, visto che abbiamo parlato prima di individuare potenziali clienti, di capire bene qual è il target, è una cosa anche questa sul quale spesso mi scontro con altre persone che si occupano del mio lavoro, sulla politica del essere aperti ad accettare le connessioni, oppure accettare selettivamente le connessioni, e anche creare un profilo che sia un po' selettivo, cioè che non parli a tutti quanti, non sia di ampio respiro, ma parli direttamente a una persona specifica. Qual è secondo te il vantaggio di una o dell'altra modalità di gestione del network e del profilo, secondo te? Il vantaggio poi in realtà è legato più in generale a quello che è il marketing di un professionista o di un imprenditore, nel senso che se c'è una cosa che io credo fortemente è che nel marketing quando si dice mi rivolgo a tutti è come dire mi rivolgo a nessuno. In questo credo fortemente. E se questo è vero è chiaro che come nella mia comunicazione aziendale, come nel mio marketing aziendale, anche su LinkedIn forse questo è vero. e quindi probabilmente devo riuscire a identificare bene il target. Quindi se voglio raggiungere la massima efficacia, devo in qualche modo capire prima a chi mi devo rivolgere e nella politica di accettare i contatti o di cercare i contatti, probabilmente devo, almeno per la maggior parte, rivolgermi a quel target. Questo è quello che credo. Questa è una cosa dove quando se ne parla poi con gli imprenditori, professionisti o colleghi, in realtà poi c'è una sostanziale condivisione. Quindi tutti ci troviamo d'accordo su questo aspetto. Poi però basta girare un attimino sui profili e ci accorgiamo che in realtà poi questo non avviene. Nel senso che molto spesso troviamo persone che nei loro profili hanno contatti di tutti i tipi oppure, peggio ancora, continuano a cambiare tipo di comunicazione. Quindi la comunicazione che fanno in realtà non è in linea, non è coerente con quello che poi è il target che dovrebbero avere nella loro professione, nella loro attività. E quindi in questo modo possiamo dire che molti dicono sì, questo concetto lo so, però poi in realtà la domanda che dovremmo farci è se tutti i giorni poi questa cosa la facciamo. Capita a tutti di avere un po' di confusione oppure di non avere ben chiaro il target oppure, peggio ancora, di continuare a cambiarlo, di essere confusi o di aumentiamo il fatturato. In realtà è esattamente succedere il contrario. Quindi se noi allarghiamo il target parliamo a tutti e diventiamo meno efficaci nella generazione dei contatti. Mi chiede SGC Servizi che cosa si intende per un contatto correttamente profilato? Certo, certo. Se, come abbiamo detto prima, è chiaro che cosa a chi mi devo rivolgere quindi la chi mi devo rivolgere vuol dire fare un elenco delle caratteristiche che il mio cliente deve avere. Quindi facciamo degli esempi concreti. Mi devo rivolgere agli amministratori di grandi aziende amministratori e dirigenti di grandi aziende è chiaro che il contatto deve avere determinate caratteristiche e quindi quando vado a cercare i profili su LinkedIn vado a cercare i profili che rientrano in quella caratteristica oppure possono essere profilati per settore ad esempio e quindi andrò a richiedere o a generare contatti in quel settore. Chiaramente LinkedIn è una piattaforma professionale e quindi se mi rivolgo ai privati diciamo è un pochettino più difficile magari profilare con LinkedIn il contatto o meglio, poi ci sono sicuramente delle cose però diciamo non è nata per questo nel senso che è molto più forte la profilazione in ambito business LinkedIn nel senso che tutti i campi del profilo parlano business quindi in questo senso ritengo che sia non so se ti ho risposto se ho risposto alla domanda ecco questo è un po' Rinaldo mi chiede infatti il fatto è quanti utilizzano LinkedIn in modo così professionale in Italia? La risposta è che ci stiamo a fare noi ovviamente questo è un interessante tema per lo sviluppo di un business brand dell'attività di Luca Pensa Puta caso Ok Grazie Alberto Scendiamo nel pratico con Fabrizio Quali sono secondo te Fabrizio le peculiarità di usare LinkedIn come strumento di ibrido marketing vendita per quello che hai potuto vedere utilizzandolo? Cosa intendi per ibrido? Uno strumento ibrido nel senso che non è una sales letter quindi non ha solo il canale della vendita ma non è neanche un form per la newsletter dove la newsletter ovviamente è un canale sia di marketing sia di vendita ma il portare traffico diciamo è un po' un canale di puro marketing facciamo tra virgolette nel senso è un canale che si presta a entrambe le facce Diciamo che possiamo anche un pochettino allargare il tema in questo senso ci sono due aspetti da valutare su LinkedIn ma anche in generale ciò che fai per attirare clienti e ciò che fai invece per tra virgolette cacciare clienti se analizziamo questo se entriamo nel merito di questo allora non c'è nulla di ibrido in LinkedIn perché? Perché se voglio attirare oltre ad avere un profilo correttamente strutturato è importante proprio l'attività che faccio su un social di questo tipo che è un social business è il social business però questo non mi evita magari di essere generoso nel fornire del like o del fare dei commenti su ciò che condividano o postano chi? I miei potenziali clienti o ancora condividono informazioni di altri che possono risultare interessanti anche per i miei potenziali clienti questo li porterà a visionare magari il mio profilo e se il profilo è ben strutturato cosa che tu spieghi tra l'altro molto bene questo mi farà fare già buona parte di quella che dovrebbe essere un'attività normale di vendita l'altro elemento interessante è che io penso che non è LinkedIn che ti fa concludere la vendita quello che può fare veramente LinkedIn se lo utilizzi in maniera professionale è metterti in una condizione per la quale ti porta per quello che tu fai su questo social ti porta però in una condizione per la quale ti predisporrai a poter chiudere un maggior numero di vendite ad esempio è molto importante se utilizzo o non utilizzo LinkedIn in termini di authority ovvero per fare authority cioè per dimostrare che ho una forte competenza che sono uno specialista bisogna ad esempio avere dei contenuti propri che arrivano da un proprio blog o che sono ancora meglio magari postati direttamente su quello che gli italiani chiamano pulse perché è questo? perché l'authority cioè il dimostrare competenza specializzazione piuttosto che l'endorsement o ancora le testimonianze che ricevi da persone che sono entrate in contatto sono un vero e proprio magnete io le definisco in questo modo spesso questo magnete è quella leva che fa sì che siano i tuoi potenziali clienti a chiederti loro il contatto e questo chiaramente cambia completamente lo scenario e se vuoi questo per assurdo è ancora più importante di quello che potrebbe accadere con una sales letter o con una dem è chiaro che se siamo agli inizi quindi non disponiamo ancora di tutto questo dobbiamo attrezzarci dobbiamo cominciare a farlo vabbè non è il caso di disperarsi andiamo noi incontro ai clienti tutto quello che apprezziamo scriviamo condividiamo può aiutare a creare contatto e soprattutto questo è l'elemento importante quando entriamo in contatto con un potenziale cliente soprattutto su LinkedIn non parliamo di noi cerchiamo subito di dichiarare a quel potenziale cliente qual è il beneficio cioè che cosa possiamo fare per lui io per quel contatto non devo essere Fabrizio Di Luca della FD Research Group primaria società leader nella consulenza della formazione che vanta riconoscimenti e una serie di bla 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 che siamo bravi che siamo belli questo non interessa a nessuno nessun potenziale cliente nessun settore è interessato a questo io per quel contatto devo essere Fabrizio Di Luca FD Research Group sono in grado di aiutarti a far crescere sensibilmente il tuo fatturato professionale e ingretto e immediato è una cosa interessante questo pitch interesserà moltissimo scherzo a parte anche ieri abbiamo parlato un po' eravamo a Ravenna a lavorare con degli imprenditori e spesso noto ai corsi quando dico questa cosa mi fanno una faccia a essere no ma è importante che io dica che sono l'imprenditore è importante che io dica che sono il capo non ne può fregare nemmeno nessuno cioè la risorsa scarsa oggi citando quello che aveva detto Alberto prima è il tempo quindi l'attenzione delle persone e se vuoi entrare in attenzione con le persone fare in modo che siano loro a chiedere il contatto a te che come dici tu cambia tutto cambia tutti i giochi allora forse dobbiamo cercare di essere un po' più utili e un po' meno un po' meno narcisisti hai detto una parola che mi permetto di sottolineare che è magnete e faccio una domanda a tutti e due è meglio un magnete grande o un grande magnete chiedendo la pubblicità del cinghiale una volta mi spiego meglio al di là della battuta spesso ci sono persone che collezionano endorsement a caso o referenze fatte male o contatti nella speranza di creare authority con la massa alcuni invece si contentano di avere magari delle reti un po' più piccole degli endorsement con minore quantità però di curare meglio la rete mi avete già risposto in parte la domanda però se potete dire qualcosa di più su questa differenza sarebbe molto interessante chi vuole non sentiamo non ti sentiamo Alberto prova a ricaricare la pagina capita ogni tanto nel frattempo se Fabrizio vuoi rispondere per fare le veci di Alberto diciamo che se vuoi in parte si lega un po' a quello che dicevamo prima sull'identificazione del target o su che cos'è il contatto profilato è estremamente importante non lavorare sulla quantità perché lavorare sulla quantità può creare anche un effetto diciamo così a volte anche magari virale ma in realtà questo in termini poi di efficacia rispetto al risultato commerciale vale zero quello che produce risultati è identificazione chiara del target comunicazione mirata verso quel target cercare di fare in modo che sia quel target che risulta talmente attratto dalle cose che dice o che sei in grado di raccontare a tal punto da far sì che sia lui a chiederti il contatto quando questo accade e è anche semplicissimo tra l'altro su LinkedIn valutare la qualità del contatto perché immediatamente a differenza di qualsiasi altro social tu sai immediatamente chi ha chiesto il contatto quindi se stai comunicando correttamente se io comunico correttamente riceverò richieste di contatto da start-up da professionisti da imprenditori che vogliono migliorarsi nelle loro qualità e capacità commerciali se ricevo contatti da persone differenti da questo forse è meglio che magari ci dialogo un attimino e cerco di capire qual è il motivo magari può essere un dipendente di azienda che vuole avviarsi magari a una professione a mettersi in proprio benissimo e di nuovo un potenziale start-up e quindi un contatto profilato no ho letto un tuo articolo casualmente mi è piaciuto molto oppure una mia amica ha messo un like e quindi ho visto che ha chiesto l'amicizia e la chiedo non è un contatto utile non produce nessun beneficio quindi personalmente qualità meglio un grande magnete Alberto continuiamo a non sentirti ancora sì però possiamo provare con la lettura del labiale forse riusciamo non sai il linguaggio dei segni prova a sganciare magari il microfono e provare con il microfono del pc magari mi sentite? sì ti sentiamo perfetto quello che volevo aggiungere naturalmente condivido il discorso della qualità una cosa su cui voglio sottolineare invece è anche la continuità nel senso gestire una rete e tenerla viva presuppone continuità costanza perché le persone poi sono costantemente bombardate di informazioni quindi dobbiamo continuamente dare valore a questa rete altrimenti come è veloce oggi crearla con i social è anche molto veloce asciugato questo è quello che volevo aggiungere quindi la creazione dei contenuti se volete del magnete deve essere anche continua ok grazie c'era una domanda vediamo se la riprendo qui Cristina se non sbaglio mi chiede se per la profilazione su linkedin è necessario avere un profilo premium qui rispondo molto semplicemente per la profilazione non è necessario un profilo premium un profilo premium ti aiuta eventualmente con determinati filtri aggiuntivi possono essere per esempio le dimensioni aziendali se stai facendo della profilazione nel tuo cliente stai facendo una profilazione per cui è necessario avere solo delle aziende di determinate dimensioni allora il filtro premium ti aiuta un altro filtro premium interessante è quello che ti dice quali sono gli anni di esperienza della persona quindi se stai facendo una profilazione su B2C vuoi andare sui senior o sugli junior o sugli neurati eccetera l'altro filtro interessante è quello che ti permette di guardare quando il contatto sei iscritto a LinkedIn magari può interessarti solo quelli che sono giovani sulla piattaforma o quelli che sono da lungo corso perché sai che magari sono più reattivi agli strumenti ecco diciamo che in questi casi il profilo premium è abbastanza imprescindibile altrimenti basta il profilo gratuito mi chiedono quali sono le caratteristiche base affinché un messaggio in mail possa risultare efficace per chi non lo sapesse i messaggi in mail sono delle email a pagamento che vengono mandate da una persona o un'altra anche se non sono connessi su LinkedIn e di solito hanno l'obiettivo di portare il contatto a una discussione costano perché costano 8 euro l'uno quindi hanno bisogno di essere tarati al punto qui brevemente due domande tre consigli sull'inmail ma che valgono comunque in generale l'approccio su LinkedIn e chiederei sia ad Alberto sia a Fabrizio tre consigli pratici per entrare in contatto con un potenziale cliente direttamente su LinkedIn senza fare la figura del venditore di auto usate che si vede nei film americani di cui se non sbaglio hai anche usato la foto da qualche parte no? no non credo di sapere di cosa stai parlando ok la mia più che tre consigli magari aggiungo anche qualcosa quello che sconsiglio vivamente di fare è quello che fanno la stragrande maggioranza delle persone ovvero usare quello strumento che sia in mail o meno ma in generale quella possibilità di contatto con la persona in target per presentare se stessi e la propria azienda questo è del tutto inutile e lo è a maggior ragione a maggior ragione ripeto se spendo 8 euro per farlo è pura follia quello che devo fare in parte l'ho accennato prima è riuscire a creare un piccolo pitch una piccola presentazione nella quale però identifico immediatamente un beneficio e lo trasmetto quindi nella valutazione della persona a cui decido di scrivere mi sono guardato bene il profilo l'ho studiato ho identificato una possibile necessità un possibile bisogno un possibile problema di quella di quella persona di quel professionista di quell'azienda decido di contattarlo evidenzio immediatamente quell'ipotesi di bisogno beneficio bisogno necessità o problema e immediatamente gli dico qual è il beneficio che posso offrire e perché sono nella condizione di poterlo fare bastano poche righe con l'obiettivo di catturare l'attenzione evidenziare problematica necessità o problema e dire immediatamente perché e che cosa posso fare per te chiedendo poi a seconda di qual è l'obiettivo per il quale decido di comunicare può essere il contatto telefonico può essere una call via skype può essere uno scambio di mail successivo però molto immediato immediatamente calato direttamente sulla realtà di quel tag specifico perché se è una cosa standard se ne accorgono subito quindi magari partire da avendo visionato il tuo il suo profilo accuratamente ho notato che ho visto che ho ipotizzato che sono interessato a valutare questo quello e il beneficio che di cui possiamo parlare è questo ok grazie mille che cosa vorrete esattamente che faccia quell'interlocutore consigli di chiedere l'appuntamento direttamente al primo contatto oppure forse è meglio rimandarlo a un secondo contatto questo secondo me dipende dalla forza e dalla rispondenza che posso ipotizzare tra il bisogno necessità problema che penso di aver rilevato e la forza che penso di avere in termini di risposta e soluzione se penso di aver individuato o di essere certo che c'è quel bisogno o quella necessità o quel problema su quel target e penso di avere una soluzione molto efficace io punterei direttamente al contatto se non ne sono certo allora cerco di incuriosire cerco di entrare in dialogo e magari parto da cose molto più semplici tipo magari allegare un link che però non sia il link di nuovo alla presentazione aziendale o il pdf da 180 mega ma un link di nuovo nel quale magari trovo trovare ulteriori dettagli e se interessato nuovamente a riprovare generare il contatto telefonico grazie Alberto aggiungo magari di stare molto attenti al linguaggio che si usa soprattutto per chi magari viene da un mondo tecnico attenzione che chi legge la mail non è detto che sia altrettanto tecnico quindi attenzione ad usare termini che magari sono diciamo molto di moda ma che poi non vengono compresi o addirittura vengono fraintesi da chi legge quindi stare molto attenti a questa a questo aspetto perché molto spesso si vedono delle mail che sono magari chiare per chi conosce i due linguaggi ma non è detto che il nostro target sia diciamo così avvezzo a certi termini qui mi riferisco soprattutto a chi si muove nell'ambito informatico piuttosto che chi ad esempio usa frequentemente termini in inglese magari con il piccolo imprenditore che magari certi termini non li conosce e poi ad esempio una cosa molto efficace secondo me è dettagliare molto bene le cose a punti quindi essere molto schematico perché le persone poi ormai sono abituate a vedere degli link puntati delle magari evidenziare anche delle parole chiave questo secondo me è molto efficace e scrivere con semplicità la call to action un consiglio per scrivere una call to action efficace che valga sia per il profilo di LinkedIn sia per l'email in generale certo evidenziarla in qualche modo quindi deve essere scritta in un formato diciamo più evidente ok e ripeto secondo me la semplicità perché se mettiamo se la complichiamo troppo poi le persone magari si distraggono non leggono tutto tante volte veramente si mette il box inserisci la tua mail qui sotto e ti chiede dove devo inserire la mail e quindi oppure deve essere molto semplice oppure spero vivamente che grazie a questa mia comunicazione un giorno potremo finalmente entrare in contatto e così io potrò dirle non serve a niente dimenticate questa cosa quali sono le parole ti ho colto la sua attenzione chiedo siamo in contatto prima possibile quali sono le parole per me sarebbe un piacere farlo via Skype per me sarebbe un piacere fissare un appuntamento telefonico le do già la mia disponibilità il giorno alle ore o se preferisce il giorno alle ore questo è molto interessante mi raccomando di riguardarvelo quando andate dopo su YouTube a guardare il replay della puntata mi raccomando questi consigli sono molto importanti ne aggiungiamo un terzo che completa il trittico ed è quali sono le parole da non utilizzare o le espressioni da non utilizzare mai in un messaggio di questo tipo o nel vostro profilo LinkedIn di quelle che fanno scappare i clienti a gambe levate oppure di solito fare una noia mortale tipo leader di mercato per esempio parliamo tu stai cercando di farmi dire cose allora sicuramente ci sono parole che sono non poco importanti ma talmente logore abusate che non hanno più nessuna efficacia non solo ma diventano proprio per questo motivo controproducenti ne dico due ma giusto per capirci una l'hai citata tu leader negli ultimi dieci anni c'è stato l'abuso dei leader di mercato è diventato difficile trovare un qualche tipo di comunicazione di qualcuno che cerca di fare promozione di se stesso dei propri prodotti di servizi che non utilizza l'espressione leader di mercato o leader di settore è logora abusata non funziona più non utilizzatela ve ne dico un'altra la parola qualità vi risulta che esista un sito web dove non sia in questo momento utilizzata la parola qualità qualità dei nostri prodotti la qualità assoluta dei nostri prodotti servizi lo fanno tutti tutto quello che comunicano tutti non è più di nessuna efficacia la parola leader funzionava nel momento in cui abbiamo vissuto anni in cui era importante la leadership era importante ad esempio il concetto qualitativo quando la parola qualità è emersa ed era fondamentale negli anni in cui la Toyota ha conquistato il mondo sono passati un po' di anni basta è normale che uno pensa che se lo stai contattando parti dal presupposto che i tuoi prodotti i tuoi servizi o la tua professionalità siano di qualità altrimenti non provi neanche a metterti oggi in contatto con qualcuno ottimo grazie hai ottenuto un plauso in chat da Giulia che fa la SEO è una bravissima copywriter non vede l'ora che qualcuno dica chiaro e tondo queste cose grazie Giulia prego Alberto aggiungo due parole da non usare spesso anzi quasi mai che è io o noi a seconda se siamo un professionista una società perché non c'è niente di peggio che reggere quelle comunicazioni dove c'è scritto noi bla 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 noi queste cose stancano parlate del vostro cliente non di noi l'abbiamo già detto e la conseguenza delle parole sono l'io il noi chiudiamo chiudiamo ringrazio Fabrizio ringrazio Alberto per la partecipazione in chat Giulia ha doverosamente smarmellato come dice Salvatore Russo i vostri link con gli ebook al leader della vendita dall'idea al business plan i siti personali i blog quant'altro seguiteli ci sono i replay su youtube se ne arrivate 175 subscriber sono molto contento di questa cosa ringrazio tutti quelli che hanno partecipato non voglio lasciarvi senza un'ultima domanda e la domanda è quella di Cristina ed è questa su linkedin c'è oggi la possibilità di seguire delle persone senza essere connessi quindi possiamo vedere i loro aggiornamenti senza però chiedere lo step della connessione secondo voi è un primo step per la connessione con un potenziale cliente serve a qualcosa è una funzionalità che in realtà può servire ma anche no cosa ne pensate due info giusto per chiudere posso dire come la uso io io ad esempio la uso per seguire diciamo le persone che hanno una certa importanza all'interno di un settore quando mi interessa seguire un settore prendo i diciamo le persone chiave e le seguo semplicemente non è detto che le prendo il contatto perché semplicemente non ci sarà mai un contatto professionale ma mi interessa vedere quello che si muovono quello che ripostano quello che dicono ok grazie Fabrizio ma molto semplice ci sono persone che non considero dei miei potenziali clienti però mi interessa molto quello che dicono questo per me è una persona da seguire molto semplicemente se invece mi interessa un potenziale cliente per me il fine assoluto entrare in contatto con quel cliente potrebbe essere attraverso un primo follow ni perché tendenzialmente parto dal presupposto che se do un follow sto cercando di entrare in contatto con una persona che ha molti contatti ed è molto seguita quindi a questo punto forse utilizzerei più come leva non tanto di semplicemente ti seguo ma cercare di dialogare con lui se voglio seguirlo anziché semplicemente seguirlo comincio a cercare di dialogare con lui magari commentando cosa che sta scrivendo cosa che sta dicendo condividendo cosa che sta scrivendo e dicendo e poi alla prima occasione perché a un certo punto lui mi ringrazierà se lo faccio con continuità su quel ringraziamento cercherei di agganciare di nuovo una mia possibilità di contatto partendo da un'ipotesi di beneficio qualcosa che io posso fare per lui immaginatevi Fabrizio in questo momento con un mitra in mano una fascia rossa nascosta dietro dei cespugli con la maglietta strappata ok tipo ramo in agguato ringrazio ringrazio Fabrizio ringrazio Alberto ricordiamoci sempre che l'obiettivo è vendere vendere l'obiettivo è vendere che noi di marketing ci può fregare ma no scherzo no vi ringrazio moltissimo per aver dato un taglio molto pratico alla puntata non mi aspettavo di meno da voi ovviamente sono stato molto contento che siamo riusciti a dare un'idea di come i social possono funzionare in modo scientifico mentre tutti i giorni lo usiamo in modo acritico facciamo like commenti a condivisi senza pensarci invece è venuto fuori oggi che tutte le minime cose che facciamo hanno un loro significato se partiamo da un obiettivo e questo vi ringrazio io vi lascio perché so che tra poco avete il vostro webinar quindi oggi fate doppia tornata quindi chi volesse finito questo fdresearch.com.it e andate a vedervi il loro prossimo webinar noi ci vediamo lunedì alle 18.30 in cui sarò in solitaria e farò una sessione di Q&A quindi voi fate le domande su LinkedIn e io rispondo quindi se vi va di avere delle difficoltà anziché scrivermi che ultimamente sono un po' in ritardo con la risposta dei messaggi ci troviamo live su Blab così risponderò direttamente alle vostre domande grazie di nuovo Alberto grazie Fabrizio grazie a tutti quelli grazie a te grazie a tutti grazie a Giulia che hanno partecipato grazie a voi buona serata ciao grazie a tutti